Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Ma oggi vi parlo di un profumo... Non saprei che aggettivo dare a questo profumo, perché dire semplicemente meraviglioso, stupendo, fantastico, mi sembra molto molto riduttivo. Perché parliamo di una creazione veramente pazzesca. Un profumo di cui vi ho già fatto una piccola anteprima durante il video dedicato ai miei regali e autoregali di Natale. E sto parlando di Angels Dust di Francesca Bianchi. Allora, io l'ho acquistato da Neos 1911, mi è arrivato all'interno di questa scatola. Mi sono trovata benissimo con Neos. Sono stati sempre molto carini, perché credo di averli contattati, perché il pacchetto aveva avuto un po' di ritardo. Loro mi hanno comunque risposto. E allora, il profumo, ecco, era qui dentro. Loro hanno confezionato la scatola in maniera veramente molto molto curata. Ho ricevuto anche da parte loro dei campioncini. Allora, uno è questo, ma io ve li avevo già mostrati, insomma, nel video dedicato appunto ai miei regali e autoregali. Poi hanno messo all'interno, insomma, delle brochure molto molto interessanti. E degli altri campioncini, compresi anche due profumi, compresi due profumi di Jovoie e Paris. E poi, vedete, degli altri campioncini. Comunque, sono rimasta molto molto soddisfatta. E, siccome vorrei prendere altri profumi di Francesca Bianchi, li acquisterò senz'altro da loro. Allora, torniamo all'argomento del video. Quindi, questo è il packaging del profumo. È molto semplice e allo stesso tempo molto molto elegante. E anche la boccetta rimane molto lineare e molto semplice. Guardate. Allora, questo profumo è un formato da 30 ml. Esiste un unico formato e il costo è di 98 euro. Quindi, rapportato alla quantità di prodotto, insomma, non è un profumo molto economico. Ma i profumi di Francesca Bianchi sono degli estratti di profumo. E quindi, parliamo proprio di un mondo completamente diverso. Di una concentrazione ai massimi livelli e una durata del profumo che va a compensare il costo. Proprio perché bastano pochissime spruzzate nei punti giusti e il profumo vi accompagna 24 ore. Perché veramente la durata di questo profumo è in generale, credo, suppongo io, è il primo che acquisto. I profumi di Francesca Bianchi, appunto, vista l'esperienza che ho avuto con Angels Dust, sono una seconda pelle. Si attaccano totalmente alla pelle. Hanno quella cremosità che li attacca, li fonde totalmente con la nostra pelle. Allora, Angels Dust, insomma, il nome è stato ripetuto già tantissime volte, vuol dire polvere d'angelo, si fa riferimento ad una droga, una droga allucinogena, credo, degli anni 70. E come diceva la mia amica Patrizia tempo fa, questo nome è forviante, perché se poi andiamo a sentire il profumo, non c'è una grande relazione tra i due, tra l'anima, il DNA del profumo e il nome. Però io credo che abbia un aspetto così un po', come dire, di qualcosa che offusca leggermente, nel senso che regala quella sensazione quasi di stordimento dovuto all'innamoramento. Perché io quando l'ho spruzzato è come se mi avesse talmente stordita, se mi avesse colpito la freccia di cupido e quindi mi abbia dato un attimo così di smarrimento per poi regalarmi proprio questo amore enorme nei confronti di questo profumo. Allora, il profumo è di per sé un profumo talcato. Quindi se vogliamo definire e inserirlo in una, categorizzarlo appunto in una tipologia di profumo, io direi che questo è un profumo talcato. Però non è il classico profumo talcato, cioè qui veramente ogni definizione che viene data in questo profumo bisogna immaginarla ad un livello superiore. Veramente all'ennesima potenza, io non avrei mai immaginato e la mia espressione quando l'ho spruzzato la prima volta è stata, cioè come se avessi avuto una visione. Ecco perché dico che in realtà il nome è fuorviante ma allo stesso tempo ha un'attinenza con la natura del profumo perché io praticamente ho fatto una faccia estasiata come se avessi visto, non so che. Allora, io vi leggo subito la piramide olfattiva, poi vi dico in maniera molto semplice e molto schietta e sincera, insomma, quello che io penso del profumo. Abbiamo in piramide quindi iris, mimosa, benzoino, rosa, balsamo del tolù, muschio, vaniglia, sandalo e pepe nero. Allora, la piramide in sé per sé non ha degli elementi così stravaganti, straordinari, diversi, però c'è anche il modo giusto di legare insieme gli ingredienti e di legarli insieme secondo una concentrazione che dà vita ad un equilibrio completamente nuovo, completamente diverso. Non è la prima volta che leggo nelle piramide olfattive la presenza della vaniglia, dell'iris, del rizoma di iris, del sandalo, però dipende da come, con quale maestria e con quale grado di concentrazione vengono mescolati insieme determinati ingredienti. Allora, innanzitutto questo profumo quando lo spruzziamo pervade tutti gli ambienti circostanti. Vi posso dire che se lo spruzzo al piano di sopra, mio marito lo sente immediatamente al piano di sotto. C'è un'intensità e una potenza che non ho mai riscontrato in nessun altro profumo. È un profumo che mi ricorda sia l'innocenza, il periodo dell'adolescenza, ma più che altro il periodo dell'infanzia. Però è un profumo che allo stesso tempo, oltre ad essere un po' innocente, così talcato, romantico, ha dentro di sé anche una natura molto molto sensuale. Se penso ad un momento in cui potrei indossare questo profumo, oltre ad un evento particolare, perché non lo trovo un profumo proprio da giorno per andare a fare la spesa, questo è un profumo da dedicare ad eventi veramente importanti. Lo vedo benissimo anche su una donna in Gepier che si sta specchiando, si sta struccando con tutti i suoi prodotti, con il suo latte detergente super profumato, con le sue ciprie a portata di mano. Ecco, lo vedo su una donna che comincia il suo gioco di seduzione, indossando una Gepier super sexy, e ultimo tocco questo profumo. Però allo stesso tempo, quando l'ho spruzzato, mi ha fatto pensare ad una cosa, perché la prima cosa che tira fuori questo profumo è l'anima molto polverosa, l'iris, il rizoma di iris così potenti, così polverosi, quasi un po'... non voglio utilizzare il termine soffocanti, però sono molto 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 presenti, molto offuscanti, mi ha riportato alla mente l'odore e il sapore dell'impasto delle torte, nel momento in cui andiamo a mettere il lievito vanigliato, quindi non prima, ma proprio dopo aver messo dentro e mescolato insieme il lievito vanigliato, che conferisce all'impasto questo profumo goduriosissimo proprio di vaniglia, di vanillina, l'odore è proprio quello della vaniglia, della vanillina, dell'impasto, della torta. Ma non ha nulla a che vedere con i profumi gourmand, con i gourmandoni, perché non è un profumo gourmand, ripeto, è un profumo che nelle sue varie fasi dell'evoluzione ha delle trasformazioni continue, proprio continue, quindi si passa da un esordio molto talcato, molto intenso, vigoroso, vellutato, proprio mi viene in mente davvero il velluto, per poi ricordarmi questo impasto godurioso, morbido, profumato, e poi sul fondo si assesta su note più voluttuose, più intriganti, più sensuali e più da gran seduzione. C'è una rosa morbida, una rosa vellutata, in questo profumo la rosa ha la sua vera anima, quindi di fiore carnale, conturbante, sensuale, accattivante, e anche un po' malizioso, anche intrigante, misterioso, questo è un profumo che non è facile definire con le parole. Io ho fatto un acquisto al buio, ho visto diverse recensioni, però credo che i profumi di Francesca Bianchi debbano essere vissuti, annusati, sentiti, gustati, perché è un profumo che arriva anche al palato, è un'esperienza olfattiva che consiglio a chiunque. Ecco perché credo che per il mio compleanno io opterò per un altro acquisto di Francesca Bianchi, sono indirizzata sul Sex, verso il Sex and the Sea, però se voi ne avete provati degli altri e sapete indicarmi magari qualche altra profumazione, io ve ne sarei molto grata. Quindi, profumo veramente speciale, unico nel suo genere, elegante, e ripeto, dal mio punto di vista non un profumo da tutti i giorni, un profumo veramente che merita di essere indossato in occasioni speciali, e quelle occasioni speciali meritano effettivamente un profumo di questo tipo. Quindi, felicissima veramente di averlo nella mia collezione, in questo momento in cui ve ne sto parlando, me lo sento addosso e c'è la stanza piena di profumo, e so che lo sentirò già per tutta la giornata, tutta la notte, perché sicuramente si sono anche impregnati i miei capelli di questo profumo davvero meraviglioso, e quindi, insomma, nella mia, come dire, semplicità e onestà, questo è quello che ho ricevuto da parte di questo profumo. Dunque, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, insomma, per farvi così delle idee iniziali in merito ai profumi di Francesca Bianchi. Io vi ringrazio, vi mando, come sempre, tanti baci, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!